Allora siamo in Prima F e sto spiegando agli alunni su che cosa lavoriamo, sul progetto. Diciamo io sono ripetente, quindi ho vissuto l'anno scorso l'esperienza di studiare sui libri. E quest'anno questa esperienza di questo progetto high tech è una cosa più leggera, è anche divertente, interessante, però comunque richiede impegno e tempo. Perché anche c'è la cosa più stupida per imparare a costruire una stanza, sembra all'inizio facile ma non è così. E lavoriamo sulla lupa capitolina e abbiamo creato una stanza al centro su di un pedistallo la lupa e sui muri ci sono didascalie, immagini che spiegano la storia della lupa. Tutto il lavoro che facciamo su Edmondo viene aggiornato volta per volta su un blog.